Tommaso Brioti per tutti e Toms2Up tutte tue mie mie per ora si si è finita sono tutte mie per ora chi vuoi che te le porti più via basta basta va bene adesso puoi anche ridarle indietro basta prendere il premio che so che anche interessante si sono 5.000 di 5k va bene sì sono contento anche perché oggi è stata una giornata piscina così di relax poi vengo e scippo insomma bella giornata bella giornata allora un torneo peraltro non particolarmente oneroso però c'era un bel po di giocatori quindi la cifra poteva rivelarsi interessante si a parte la cifra credo che comunque anche se è un flash un po di cioè di abilità bisogna comunque tirarla fuori perché c'è la fiera equiti delle bolle ci stanno varie bolle quindi va bene insomma sono anche stato fortunato è però la fiera equiti dico che fa molto la parte in questi in questi in questi eventi quindi c'è una strategia da tenere assolutamente a conto e non è un caso che tu sia arrivato in e zap contro andrea bulgari che ha vinto una tappa del poche capri quindi evidentemente non è che si passa di qua per casa e poi si vince va beh questo penso sia stato un caso poi ovviamente arrivare con lui in e zap batterlo è stato soddisfacente insomma come li investi ora vabbè andiamo tutti al vagabond che è il pub e si offre e poi è arrivato il mio amico calizzo che marco sarebbe barlam che ha fatto il compleanno quindi bisogna festeggiare che è stato qualche giorno fa e poi vediamo che qua c'è i sostenitori e qualcosa deve fare